RASCEL Russell, tu lavori troppo. Sì, sono instancabile. È forte e ti farò arricchire. Quanti te ne servono? 1.500. Non mi girano in tasca così tanti soldi da tirarti fuori dai guardi. Poi andiamo a farci una bevuta? Sì. Una bella cena liquida. Ne vuoi un altro? No, Rodney avrebbe dovuto raggiungermi già da mezz'ora. Si può sapere perché vuoi combattere? Mi servono soldi. Sarà meglio che fai il bravo ragazzo di Tulfi. Io dovrò darti una bella lezione. Rodney! Rodney! Non hanno trovato tuo fratello. Quella gente ha un modo tutto suo di intendere la giustizia. Da qui noi siamo esclusi. The Groth è il peggiore di tutti. Vive su quelle montagne. Ti prego, non fare l'erore. Fallo per me, non andare. Avremo una sola possibilità con The Groth. Sei pronto? Sono il fratello di Rodney Place. Non me ne andrò senza di lui. Perdona i miei peccati, signore. Perdona i miei peccati. Dimentica e perdona ciò che siamo stati. Sei un ragazzo dal cuore buono. Ciao, papà. Ciao, figliore. In piedi. Ai cinque secondi. Cinque. Quattro. Entriamo! Tre. Due. Sono sparate! Uno. Oggi vi svelo curiosità su due grandissimi attori di Hollywood. La prima è su Johnny Depp, il quale soffre di una forma di fobia di cui solitamente possono soffrire i bambini, ma che a volte può persistere negli adulti. E cioè si fa la pipì a letto. No, scherzo. Alla colorofobia, cioè la paura dei clown. Beh, dopo It di Stephen King, ma soprattutto dopo McDonald's, penso che tutti abbiamo un po' paura dei clown. Povero John, ti capiamo. L'altra curiosità invece riguarda Jack Nicholson, il quale è stato allevato dai nonni. Lui pensava che fossero sua madre e suo padre. E la donna, che pensava fosse la sorella, era in realtà sua madre. Aveva 38 anni quando scoprì la verità. Il padre biologico dell'attore è incerto. Dio, sono confusa. Figuriamoci lui. Ciao a tutti.